Condanna giudiziare col pagamento di quasi 25.000 euro al CAS per la vicenda relativa a sei anni fa la morte di una giovane automobilista che poi si risolse con l'assoluzione. Per il parlamentare modicano Nino Minardo, allora presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio Autostrade Siciliane, le grani giudiziare non sono mancate e dire che quell'incarico venne tenuto per una decina di mesi. I giudici della Corte dei Conti di Palermo hanno infatti condannato per quella vicenda tragica i vertici del Consorzio, quindi compreso Minardo, in una tragedia che si consumò sulla Palermo Messina. Allo stesso tempo gli ex vertici del Consorzio sono stati condannati alla pena pecuniare per avere bloccato la nomina del dirigente generale del Lento, Olivia Pintabona, e nominata al suo posto alcuni consulenti esterni. Questa mancata nomina è stata ritenuta immotivata da qui le pene pecuniare per i vertici del CAS dell'epoca per cui Minardo dovrà pagare per l'esattezza 24.998 euro. Se i vertici del Consorzio, si legge tra l'altro nella sentenza, avessero provveduto a nominare tempestivamente Olivia Pintabona quale dirigente generale, non ci sarebbe stata la necessità di assegnare funzioni surrogatorie di un consulente esterno. In quest'ottica la rimunerazione del consulente per i giudici integra un esborso inutile in quanto assolutamente evitabile e quindi come tale causa di danni errariali per lo stesso Consorzio.